Sì, dopo è passato un anno dal terremoto, la scossa di ottobre che vi ha distrutto il cumulo. A che punto siamo e qual è l'umore di accumuli e dei suoi cittadini? Le persone sono tornate sul territorio finalmente, sulle case provvisorie. Adesso partirà l'attività più importante e quella più impegnativa, che è la ricostruzione del tessuto economico e sociale, perché ancora le attività stentano a riavviarsi e non ci sono comunque luoghi di aggregazione, non ci sono più punti di riferimento, quindi dobbiamo essere bravi a mantenere unita la comunità in questa fase, sarà molto difficile.